Quali sono i segnali più positivi che lei ha visto oggi dalla sua squadra per il futuro? La personalità con cui ha giocato e come abbiamo preparato la partita l'abbiamo fatta. Vuol dire che questi ragazzi hanno delle capacità, ci sono delle qualità che dobbiamo sfruttare. Devono avere meno ansia e meno paura perché non esistono. Hanno dimostrato oggi che possono giocarselo con tutti e dobbiamo continuare su questa strada. Lei diceva meno ansia e meno paura. È sembrato in alcuni tratti della partita, specie nel primo tempo, che ci fosse un po' di ansia, di imprecisione ad arrivare sotto porta alla conclusione. Quindi da migliorare qualcosa su questo. Come? Dobbiamo migliorare negli ultimi metri, l'ultimo passaggio, la conclusione in porta. È quella che ci è mancata oggi perché il resto è andato tutto bene. Due punti persi secondo me, però ci teniamo davvero stetti a questo punto che per noi è molto importante perché come ho già detto precedentemente deve essere un punto di partenza e penso che sicuramente sarà utile per raggiungere la salvezza, anche se c'è molto rammarico sinceramente. Ci sono quelle annate che non sai dare un perché alle cose. Ci ritroviamo in questa situazione e c'è veramente tanta rabbia e tanta voglia di tirarci fuori a più presto. Secondo me è un po' inciso nel senso che Mister è stato bravo a creare quello spirito e a darci quei due o tre dettami tattici che ci hanno dato un po' di sicurezza e di certezza in più.